Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale! Oggi, come ho promesso, ho deciso di registrare il video haul regali di Natale. Innanzitutto volevo dire che sono molto contenta che l'idea di portare altri contenuti sul canale vi piaccia e quindi vi ringrazio un sacco per cominciare subito il video. Allora, il primo regalo che vi faccio vedere sono queste calze, non so diciamo di un tessuto sintetico, sono di un tessuto sintetico e arrivano fino sotto le ginocchia e sono molto molto belle perché sono elastiche e molto comode. Mi sono arrivate multicolor e anche colore smeraldo, molto molto bello, poi ve lo farò vedere da vicino. e poi, sempre dalla calzidonia, ho fatto un altro regalo che non va sCL da qualche modo. mi sono arrivate queste calze nere tutte strappate devo ancora provarle ma secondo me sono molto molto belle poi nel pacchetto di Intimissimi abbiamo una canottiera di questo colore margoncino poi ve la farò vedere sempre da vicino e in abbinata mi sono arrivate le sue mutandine di pizzo sempre molto molto carine poi mi è arrivato questo obiettivo 70-300mm della Sigma che funziona benissimo, l'ho provato, devo ancora finire bene di provarlo però per i minimi dettagli riesce a catturare i minimi dettagli ed è molto bello, lo volevo da un sacco e sono veramente contenta poi mi è arrivato questo profumo della Versace che si chiama Yellow Diamond l'ho appena provato e devo dire che è un profumo molto molto dolce è una fragranza molto dolce e mi piace un sacco poi vi lascerò tutte le informazioni nella descrizione e poi vi lascerò tutte le informazioni nella descrizione è una saponetta profumata si è come se fosse una saponetta profumata da mettere nell'armadio che lascia tutti i vestiti profumati ed è veramente veramente buonissima e non saprei neanche dirvi di che fragranza sia è un mix tra arancia e vaniglia ma è veramente buonissima e poi ho lavorato in un evento e come premio mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno regalato un trattamento viso in un centro estetico qui vicino e non vedo l'ora di andare a provarlo poi mi è arrivato questo vestito dopo ve lo farò vedere meglio è molto elegante e veramente mi piace un sacco perché è elegante e stretto in vita e poi mi è arrivato il Daniel Wellington sì, non sono molto brava a far vedere le cose e lo desideravo da troppo è fighissimo, mi piace un sacco e poi vi lascerò tutte le informazioni nella descrizione è elegante ma anche sportivo con il liquadro nero e è bellissimo, sono davvero contenta bene, il video è finito spero vi sia piaciuto come ho già detto vi lascerò tutte le informazioni giù in descrizione se avete qualche altra idea per qualche altro video fatelo sapere nei commenti se vi è piaciuto il video lasciate un bel pollice in su e niente, ci vediamo alla prossima ciao!